E' ben ritrovati all'appuntamento del martedì col segnalibro, come ogni settimana un consiglio per la lettura, un consiglio che come spesso facciamo in questo spazio ha come sfondo Roma, ma in questo caso approfondiremo un lato diciamo così più gustoso, basta il titolo per capire, il titolo di questo libro è edito da Castelvecchi, dal titolo appunto La cioccolata a Roma, che è un viaggio tra i migliori, più caratteristici anche locali di Roma che propongono cioccolata da gustare in diversi modi ma rigorosamente di qualità, come credo ci spiegherà l'autrice di questo libro che è in studio con noi, Elisa Ferroluzzi, buonasera. Buonasera. E' ben trovata, non è stata una sofferenza diciamo raccogliere il materiale per scrivere? No, assolutamente no, diciamo che questa narraguida nasce con l'intento di raccontare Roma attraverso le sue cioccolaterie e viceversa. La Castelvecchi già era uscita con i bar a Roma di Stefano Sgambati in cui si era raccontata appunto la capitale attraverso i numerosi bar. Con le cioccolaterie è stato un lavoro un po' diverso perché ovviamente ci sono meno locali che si occupano di cioccolato a Roma, però ho fatto questo viaggio cercando prima di tutto su internet o tramite amici i locali, insomma le principali cioccolaterie che esistono a Roma. Sono partita dalla fabbrica di cioccolato Said che è a San Lorenzo e poi da lì piano piano ho trovato anche altri cioccolaterie. Adesso ce lo dai qualche consiglio perché insomma ce n'è per tutti i gusti davvero, ma perché hai deciso di occuparti di questa materia? Ho messo la proposta dalla casa editrice, la Castelvecchi, che appunto voleva riprendere un po' il discorso lasciato con i bar e anche per gusto personale, essendo io abbastanza... Frequentatrice di... Sì, no, di cioccolaterie proprio, no, non l'avevo mai, non mi era neanche... Ah, quindi è stata una novità anche per te? È stato un viaggio, sì, una novità anche per me, non mi era neanche venuto mai in mente di andare in una cioccolateria, io mi occupo di tutt'altro, di calcio, quindi c'è proprio... E quindi è stata una scoperta anche per me. Sono partita appunto dalla fabbrica di cioccolato a San Lorenzo, dove mi sono recata per la prima volta assaggiando la loro cioccolata calda. Diciamo che per essere un locale che si trova a San Lorenzo non rientra molto nei canoni, cioè è molto chic, molto costoso, una cioccolata calda l'ho pagata 6,50 euro. È un prezzo medio su Roma o è un po' altino? È un po' altino, sì, diciamo che sui quattro si trova, però vale la pena andarla a visitare perché sono esposti i vari macchinari. La fabbrica nasce nel 1923 dalla famiglia De Mauro che negli anni, insomma, è stata anche bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, però la famiglia De Mauro è riuscita, diciamo, a riaprire l'attività e diciamo è l'unico museo che noi abbiamo a Roma sulla cioccolata. Sono esposti i macchinari, anche i tavoli stessi sono degli antichi macchinari, il bancone anche. Questo è importante perché poi se uno scorre le pagine del libro, insomma, vede che tanti dei luoghi che racconti, al di là dell'aspetto semplice della degustazione, poi hanno anche una loro storia alle spalle di attività, sono quasi le botteghe storiche potremmo dire alcune di queste. Vorrei chiederti perché si parla, però insomma, quello che vorrei consigliere non è soltanto il tour nei locali, ma è anche la spiegazione di come viene servita la cioccolata nei diversi locali, del perché la si serve in un certo modo, per esempio nei locali che sono siciliani si serve in un certo modo perché è tipico della Sicilia servirla in quel modo, ma si parla di oro dei maia, per esempio, nell'introduzione del tuo libro e questo ci fa capire che il cioccolato è comunque, insomma, se ne parla da parecchi secoli. Sì, se ne parla da parecchi secoli. I primi sono stati i maia che hanno scoperto appunto questa pianta del cacao da cui sono derivati i semi e poi hanno tramandato questa tradizione attraverso i secoli. Beh, oro insomma vuol dire che... Eh sì, lo usavano come moneta di scambio e a certo punto quando Cristoforo Colombo scoprì l'America, insomma, queste civiltà, vide che queste civiltà utilizzavano queste bacche, che erano importantissime per loro, però lì non capì a che cosa servissero. Poi nel 1550 gli spagnoli, quando conquistarono gli aztechi, riportarono dall'America centrale queste bacche e lì cominciarono... In Spagna si cominciò a fare le prime cioccolate calde, però che erano solo acqua e queste bacche disciolte ancora non si utilizzava il latte. Tant'è vero che in Spagna c'è proprio la festa della cioccolata, cioè c'è proprio una data precisa in cui è nata la cioccolata che è il 7 luglio 1550. Poi piano piano in Europa l'hanno portata gli spagnoli, poi piano piano con le dominazioni spagnole in Italia si è cominciata a diffondere, però Roma è stata, diciamo, l'ultima città toccata dalla cioccolata. E adesso com'è messa dal punto di vista della qualità del servizio in questo senso? Beh, ci sono diversi punti, insomma, diverse cioccolaterie. Certo, molte si sono dovute trasformare nel tempo, per esempio sono andata in una cioccolateria a Monteverde, a conduzione familiare, che inizialmente nasceva, producevano loro, le loro cose, tutto quanto, e poi sono dovute diventare anche gelateria. Hanno aperto anche a Ostia, sempre mantenendo la loro cioccolata di famiglia, diciamo, però hanno dovuto, cioè la cioccolata all'estate non si vende, quindi si sono dovuti reinventare. Ti apri tutti i capitoli con una citazione, o da un film, o da un libro, una frase di qualche personaggio famoso, in una c'è la famosa citazione derivante da Forrest Gump, Tom Hanks, che dice la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Ecco, grazie a questo libro diciamo che sappiamo quello che ci capita, se andiamo nelle diverse cioccolaterie di Roma, ma quello che vorrei chiederti è che criterio hai eseguito per scegliere i locali che poi hai inserito in questo libro? Beh, sono appunto partita da quelle che sono proprio le cioccolaterie e basta, cioè che producono loro, con macchinari loro e via dicendo, fino ad andare, sono andata in una pasticceria al ghetto che è famosa per essere quella che fa la torta sacher più buona di Roma, quindi abbiamo parlato, mi ha fatto anche mangiare ovviamente, molto contenta, però ho spaziato anche così, per esempio sono andata anche in un'agenzia di viaggi vicino al Teatro Valle, che vende anche cioccolata, insieme all'agenzia di viaggi. Un'agenzia di viaggio? Un'agenzia Turicam si chiama. Questa la consigliamo insomma di andarci. Fino poi ad arrivare anche alla famosa rivendita di cioccolata, vino e libri che è a Trastevere, non so se... c'è sempre la fila fuori perché fanno gli sciottini di cioccolata. Sì, con dei nomi un po' secchi, adesso evitiamo di... a questo orario di... Però hanno riutilizzato, anche loro nascevano come cioccolateria, hanno la cioccolata più importante, usano insomma i marchi più importanti così, però si sono reinventati, molti si sono reinventati così, con questi sciottini. Se, senza attentare diciamo alla linea di chi ci ascolta, dovresti consigliarci un percorso da fare per Roma? Allora... Ma dove partiresti? Da Morion de Gariglio, che è la prima cioccolateria che è aperta a Roma, dopo l'unità d'Italia, quando Roma poi diventa la capitale. Da Torino si sono trasferiti tutti i grandi imprenditori e maestri cioccolatieri. E a Torino era molto importante che appunto questi due cugini, Morion de Gariglio, che avevano questa impresa, fecero aprire un negozio a Roma, che inizialmente era su Via del Corso, poi ha cambiato diverse sedi e adesso è vicino al Pantheon. E lì cominciò a lavorare Cuni Berti, che è diciamo il maestro cioccolatiere, quello il capostipite della cioccolata a Roma, quello che ha dato il Via, insomma, al movimento, diciamo. Nella sua bottega arrivò un ragazzo, un Marcello Proietti, che poi imparò tutti i due segreti e diventò lui il titolare, aiutato dalla moglie Piera. E io ho incontrato questa signora, che mi ha fatto proprio... mi ha fatto fare un percorso diciamo sensoriale, nel senso mi ha fatto... mi ha messo questo piattino, mi ha fatto vedere come si assaggia la cioccolata, cioè partendo dal sapore più leggero, diciamo, magari... Come un sommelier. Sì, fino a quello al peperoncino. Sì, perché... Che mi ha detto sensoriale, perché poi nel libro spieghi bene come non soltanto il gusto sia coinvolto tra i nostri cinque sensi, ecco, nella... appunto nell'assaggiare la cioccolata, ma abbia le positive influenze sull'umore, insomma, c'è una serie di ricadute positive, ecco, nel mangiare cioccolata. Vorrei chiudere con un'altra citazione, che è tratta sempre dall'apertura di uno dei capitoli di questo libro, Sandra Boynton, autrice americana, dice il cioccolato andrebbe distribuito ad ogni isolato perché è un diritto. Perché? Eh beh, sì, è un diritto, cioè... comunque fa bene all'umore, fa bene... Sono usciti... durante il mio percorso sono usciti tanti articoli, farebbe, va bene, alla pelle, addirittura farebbe dimagrire, vabbè. Farebbe dimagrire, questa sarebbe la notizia... Sì, perché ha delle enzimi che... ma secondo me sono tutte mosse per venderne di più. Ok. Però sono... addirittura curerebbe la... cioè, farebbe... non fa venire le carie, un letto, vabbè, non... Vabbè, insomma, no, c'è un motivo in più in questo senso per... Un diritto, sì, perché comunque è il diritto di... Sì, sì, no, c'è stata chiara, insomma, ci sono delle ricadute positive che uno potrebbe immaginare, per esempio quella sull'umore è abbastanza... Sì, sull'umore... Evidente, e poi ce ne sono altre che tu illustri nel libro che, insomma, vale la pena anche per questo di leggerlo e poi, dopo averlo letto, vale la pena di farsi un giro, almeno per... Sì, perché leggere basta, insomma, poi non... Magari pagina per pagina uno ci fa una... una passeggiata, insomma. Eh sì, sì. L'ultima cosa, da Roma, fra centro e periferia, sono quasi tutte in centro... Tutte in centro, quartiere Prati, molte volte... E in periferia c'è poco, diciamo, ce n'è una, Forte Braschi, però sono tutti localini comunque più... Perché sono comunque caratteristici, sono un po'... E quindi sono più adatti al centro... Più che altro in centro, insomma. Ma va bene, allora, dicevamo, la cioccolata a Roma, Castelvecchi, editore e l'autrice. Grazie per essere stata con noi, Elisa Ferroluzzi. Un consiglio importante anche questo martedì per la lettura. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, cambiamo radicalmente argomento perché a rientro parleremo di calcio. Con Paolo Colantoni. Grazie a tutti.